Buon pomeriggio amiche, come va? Come state? Spero tutto bene! Prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista! Ciao a tutti! E dell'aiuto regista! Il nostro bravissimo aiuto regista è oggi qua con noi! Ci aveva dato tre prodotti, ma la regista ha detto, ho sentito che gli ha detto così dall'altra stessa, tre sono troppi, uno basta, è lenta! Non so se si riferivano a me, ma ho questo sospetto, è lenta! Amiche, 40 minuti, mi sembra il minimo per un prodotto! Poi però ho chiesto anche a te conferma e tu hai accettato! Mi hanno detto da di là, ne vuoi tre o ne vuoi uno? E io ho guardato e ho detto, ma che ne so che cos'è? E hanno detto, ok, va bene uno allora! A posto amiche! A posto, a posto! L'importante è ridere, divertirsi e stare in allegria! Intanto ce ne ha dato uno! Prendiamo il Subanugaro, Subanugaro, eccolo qua! Così te ne gusti meglio i prodotti di questa linea! Così, amiche! No, così ti gusti bene anche queste! 3,50 euro! Scusate, ho un po' di... Troppa agitazione, troppa agitazione, un prodotto, un prodotto nuovo! Amiche, uno solo, è carino, sarà performante, penso di sì! Dovrebbe essere, se non mi sbaglio, una palette grafica! Scusate lo smalto, che fa veramente schifo e lo devo rifare! Si sta scarciofando! Io che cerco con disagio di leggere dietro... Ma c'è scritto davanti, graphic artist palette... Ah! Ci fidiamo, ho detto che è scritto qua davanti! Sì, sì, è qua! Graphic artist palette! Io mi fido, è DC, c'è scritto qua dietro, Batman! Io non la so fare la musichetta di Batman, mi piacerebbe, ce l'ho in testa, ma non passa, non scende dal filtro! Però io la sto sentendo! Ok! Ok, voi no, mi dispiace, voi la sapete? Non lo so! A me piace tanto Batman, perché è l'unico che conosco! Ok! Mi dispiace! Queste però abbiamo capito che è Poison Ivy e Harley Quinn! Fin qua mica è una delle poche certezze! Ho promesso che guarderò le serie! Avevo iniziato a guardare una serie di film dove c'era protagonista... Faceva paura! Ho dovuto smettere, tipo, passata la metà della serie, perché amiche avevo troppa paura! Sì? Sì, avevo paura, mi faceva paura! E ho smesso! Però a vederle così, sono così carine! Invece voi mi avete detto che Ivy Poison è cattivissima! Perché voleva tipo uccidere, non so più se è Batman! Io sconvolta! Io ho affascinata da tanti tanti anni dal pipistrello, si chiama così, che veniva proiettato in cielo quando tipo chiamavano Batman! Io così che sogno che proiettino una farfallina per chiamare la Lalli che arriva a vedere i nuovi make-up! Sì! Lo proiettano nel cielo di Los Angeles, New York, Parigi, Milano... Perché non sanno in realtà dove sono, quindi la proiettano un po' dappertutto! Eh! No? La proiettano... E io, secondo di dove vado? Ha senso? Volando! Volando, sì! Volando! Pensate se mi spuntano due farfalli... Due sì, due farfalli! Due ali di farfalli! Due farfalli! Amiche, che vergogna! Che vergogna! Allora, apriamo e svociamo questa, che probabilmente dobbiamo svociare con l'acqua... Eh sì, come quella di Fortnite! Che avevamo svociato come? Bagnando il pennellino? La dobbiamo provare! No, con quella per le lenti a contatto avevamo fatto! Ah, ok! Meno male che c'è la regista! Allora, quindi, liquido per le lenti a contatto, tra l'altro mi avete detto che era una buona idea! Io felice mi tendo una buona idea! Allora, voglio prima di tutto fare al volissimo il ristrutto delle puntate precedenti! Non vedo l'ora di finire di unboxare tutti i prodotti di questa linea, perché li trovo molto molto carini! Ma ce n'era anche un'altra di paletto di queste! L'abbiamo già aperta? No? Abbiamo aperto solo queste due? Mi sembra che sì! E' un arancione, amiche il disagio, non me lo ricordo, non me lo ricordo, purtroppo non lo so, e tanto è YouTube, non capirà mai la musica cantata da me! Questo è il bello di essere stonate! Allora, queste sono le precedenti unboxature che avevamo fatto e le abbiamo anche provate un po' di volte, infatti vedete che sono già un pochettino scarciofate, bellissime! In una, praticamente in quella di Harley Quinn, le cialde sono disegnate con dei rombi, stile, secondo me, i rombi delle carte, no? Sì, anche a me dà un'idea, però non so! Invece Ivy Poison ha la foglietta di edera velenosa e la bottiglia di Poison di veleno, quindi è molto velenosa, molto cattiva, pure questa! Ma lei può essere che ha i rombi, perché io non la so la storia di Harley Quinn, ma perché ha il cappello tipo da jolly, le carte... Insieme alla fidanzata di Joker, quindi sarà il suo asso o il suo picche, picche? No, picche è un altro segno, amiche io non so nemmeno le carte, allora c'è una certezza che io ho una vastità di cose che ignoro, va bene? Vivo bene lo stesso, comunque non importa, viviamo bene lo stesso ma facciamo malissimo i video, non importa, non importa! Se voi avete qualche info invece interessante da integrare, tranquillamente, amiche scrivete pure, correggetemi, perché io assolutamente non me la prendo, anzi, io vi ringrazio tantissimo per tutte le informazioni utili e sensate che integrate sempre nei commenti, siete super utili, sia per me che per le altre amiche che ci seguono, che almeno trovano anche un po' di conoscenza in questo canale, no? Eh sì, perché se no è tutto sulle spalle della regista qua, è le robe, diciamo, quelle intelligenti e sensate, per tutto il resto, fuffo e pettinare le bambole, c'è la lallix, ok amiche? Va benissimo! Quindi questa è calda, questa è abbastanza fredda, quindi ce n'è per tutti i gusti, la grafica è mezza e mezza, quindi non potevo non fare, diciamo, è momi e casca, il riassunto delle puntate precedenti, perché questa è certo, mi sembrava che le dovevo mettere al contrario. Poi a te dà fastidio, quindi? Molto, 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 facciamo così, allora, io so che ce la posso fare, volevo fare così, mo si stacca una cialda e cade nel pavimento, allora, pratica, non è, è storta, è storta, a me le cose storte, mi ultimo, allora, così ce la facciamo? Allora, è storto ancora? No, è abbastanza dritto. Praticamente abbiamo, a mezzeria, no? È divisa questa, è dedicata sia ai Vipoison che ad Harley Quinn, così cosa ne dite? Sono belle? Sì, secondo me sono bellissime. Fate conto che le ho pagate meno di 4 euro l'una, manco, il giornale in edicola, questa l'ho pagata, se non sbaglio, 3 euro e 5 euro. In offerta sul sito di Revolution, vero che se vi serve urgente per fare un regalo di compleanno, amiche non vi arriva più, ve lo dico, cioè ci mette un mese, quindi o vi organizzate il regalo di compleanno in largo anticipo, o se no, se le ordinate per voi, soprattutto nel momento dei saldi, le ordinate quando vi arrivano, vi arrivano. Ecco, io mi dimentico anche. Tra l'altro adesso volevo fare un ordinetto nuovo per la gioia della regista, ma non sto trovando né collezioni nuove né niente, cosa ordino? Non lo so. Non so, ti può finire di ordinare il gloss delle varie linee? Ho messo nel carrello tutti i gloss che ho trovato. Ma su Amazon? O dove? Su sito di Revolution. Ah, su Revolution. Ho carrellato, ho messo nel carrello tutti i gloss che ho trovato disponibili di tutte le linee che hanno fatto in collaborazione cartoon o film. Tutti nel carrello, senza esclusione. Se tenta a non ordinarne di doppi? Infatti, a volte lo fa amiche perché ho ordinato, l'altra volta qualche pezzo doppio, pagato comunque 2-3 euro. Quindi, senza nessun problema, lo andremo a regalare, perché comunque è pagato poco, che senso ha darglielo, no, io non glielo do indietro per 2 euro, me lo tengo e faccio un regalino, no? Unisco a qualcos'altro e facciamo magari un regalino di compleanno molto carino, tra l'altro. Quindi, non lo so se ne sto prendendo doppi, spero di no, ma penso di aver messo nel carrello tutti i gloss e rossetti che non abbiamo, perché ci siamo concentrate tantissimo su tutte le palette. Sì, è vero. Ha fatto a scaglioni, prima tutte le palette, poi tutti i blush, bronzer e illuminanti, highlighter, tutti. E diciamo che in ordine di importanza, nel fondo del pozzo dell'importanza, per me ci stanno i rossetti. I gloss stanno un pelo sopra ai rossetti. Ah, proprio i rossetti giù, giù. È l'ultimo, è proprio la fine della catena per me il rossetto. Ah, e per ultimo è quasi inesistente le lip liner, le matite labbra, perché le matite, occhi ancora ancora, ma le matite labbra è proprio per me un articolo che quasi non esiste. Mi dimentico, manco le guardo. Invece ne hai anche poche rispetto alle altre... Sì, invece le palette, le palette, mi ci tufferei in una vasca piena di palette, come zio de paperon de paperoni. Eh, non c'è il mezzo. Eh sì, nelle palette, le adoro, mi piacciono da morire, mi fanno impazzire letteralmente, vado fuori di testa per le palette. Mi piacerebbe avere una stanza tutta piena di palette, ma letteralmente, cioè tutte messe a libro, nelle vetrine. È una roba che mi fa super piacere perché sono colorate e difficilmente puzzano, a differenza dei gloss. È presente nei film dove si vedono quelle biblioteche giganti, tutte con... Quello di sostituiti i libri dalle palette. Sì, facendo... Qua c'è tutto il nostro sapere. Sì. Sanno... Uh, quanti libri! No, palette. Eh... Ah! Sì, con quegli scaffali alti, alti, alti. Sì, sì, con le scale che vanno su. Aspetta. Sì, sì. Passione palette, amiche. Allora, adesso direi che queste le abbiamo già swatchate e andrei a swatchare al volissimo questa. Ah, e avevamo già preso, l'ho attaccato con lo scotch di carta, amiche, che risolva il problema. Ma so che non me l'ho ancora accorta e mi chiedevo, ma come ha fatto a fare lo stesso? L'ho attaccata con lo scotch di carta, così non cade. E questi erano gli stickers di Harley Quinn. Ah, ecco la palette che dicevo che abbiamo unboxato. Non è una palette. Ah, è perché tu eri convinta che fosse una palette. No, no, riesco ancora a registrare l'informazione nuova. Ah, proverò così. Sì. No, amiche, non si sintonizza, non c'è niente dentro, non si può sintonizzare. Ero convinta fosse una palette. Quando arrivate, amiche, da 1 a 100, quanto ci sono rimasta male il massimo livello. Non è una palette. C'è anche io per, diciamo, continuità e per anche, come si dice, parcondiccio. No, non so, non c'entra niente. Però mi sarebbe, mi piacerebbe, forse è carino. Prendo anche gli stickers di Ivy Poison, però poi che me ne faccio? Sono grandi, grandi. Sono anche difficoltosi da usare perché sono super mega giganti. Quando mai posso... Vedi questo com'è carino, delicato. Poi tu, secondo me, non hai neanche tanto il tuo stile. Uno scheletro. Per nulla, per nulla. Vado malissimo a usarli. E poi se un grande è solo uno. Quasi sono i rombi là accanto. Ma come faccio a usarlo? Poi non ne ho un altro per ricordo. Ce n'è uno per... Uno, uno stickers per tipologia. Mi dispiace utilizzarli. Quelli sono cari. Questo ha 3 euro, quello 3 euro? No. È troppo. Quello che ti sembra una palette. Guarda che carino questo. Hai visto che fiore è? Un'orchidea? Sono super carini, sì. Questi li ho pagati 4 euro. Ci sono dentro, mi pare, 6 foglietti di fiorellini e farfalline. E le orchidee mi mancavano proprio. Sono veramente carini. Secondo me, col make-up di oggi, ci stava bene. Sì, perché lilla. Il rossetto è andato via praticamente subito. Avevo messo un po' di lip liner. Matita labbra. Mi pare quella di Emily in Paris del calendario dell'avvento. Poi ho messo un rossetto della linea Dreamscape. Si chiama così, giusto? Dreamscape di Pupa. Quello con i glitterini. Ho messo quello più tonalità nude. Perché volevo fare comunque la base, diciamo. E poi sopra ho messo un rossetto liquido, matte, lilla di Bella Oggi. Che come l'ho messo se ne è pure andato molto velocemente. Invece il rossetto di Oreste, quello mi ha colpito di Wet n' Wild della linea Alice nel Paese delle Maraviglie. Perché l'ho messo e mi è durato tantissime ore. Adesso sto cercando il mio stecchetto di carta, di carta, di plastica. Hai tolto il sigillo. Non ho tolto il sigillo. L'amica carotina ci può aiutare. Facilita la vita. Molto, molto, molto. E quindi adesso, per le pigre come me. Allora, inquadratura e apertura. Bellissima. Niente da dire sul fatto che sia veramente pazzesca per 3,50 euro. E penso, vediamo, facciamo così. Allora il nulla così. Quindi, vedete? Uno la prova e dice No, è finta, è di cartone, è di cartongesso. È di cartongesso, amiche? No. Vedete? Va attivata con l'acqua. Quindi, cosa facciamo? Innanzitutto, visto che l'abbiamo aperta, direi che facciamo 3 secondi così. Per far vedere che sono colori completamente diversi dalle altre due palette. Quindi, possiamo fare, creare tanti make-up diversi e utilizzare questi come eyeliner. Pazzeschi. Io non so quante volte dirò pazzeschi. No, c'era il nero, mi ricordo. Ma non c'era bianco. Non c'era un fucsia più aceto. Forse non c'era il rosso. Perché io ho detto, servirebbero i colori primari. Forse è meglio che andiamo a prendere. La prendo? Sì, sì. Sì, dai. Allora, l'abbiamo recuperata. Anzi, l'ha recuperata la regista. Quindi, sono colori completamente diversi. Inquadratura da chiusa, che poi la apro e facciamo l'inquadratura anche da aperto. Così, adesso abbiamo un po' di tutto, no? Direi. Aspetta che la apro. Forse abbiamo qualche doppio. No, ma sono diversi comunque. Beh, io sono contenta. Mettila una sopra l'altra, così posso inquadrare la più vicina. Ah, ci sono due neri. Due neri e un orangotango. Che colori abbiamo? Il giallo. Allora, abbiamo il bianco. Abbiamo il giallo. Abbiamo l'arancione. Abbiamo il rosso. Abbiamo due rosa, due celesti e due verdi. Che sono però tutti diversi, eh? Sì, ci mancherebbe un marrone. Il verde, forse, boh, non capisco se è uguale o diverso. Un po' sì. No, è diverso. Gli azzurri diversi, rosa, anche. Ma, visto che ci siamo, ma le suociamo tutte. Così vediamo e capiamo un attimo. Tanto ci metto tre secondi. Fidati. Allora, fidati. Fidati. Piccolo chimico, amiche. Prendiamo l'acqua per le lenti a contatto, che sicuramente è abbastanza, diciamo... No, si può dire sterile. Non lo so. Sarà sterile, sì, senza batteri. Prendiamo un pennelletto pulito. Questo mi pare abbastanza carino, ma soprattutto è pulito. Lo bagniamo. E via, diswatch. Allora. Il bianco. Magari fai prima... Falli in scala di colori, no? Così non insozziamo tutto. Esatto. Allora, e partiamo da qua. Bianco. Non è proprio comprendissimo. Allora, infatti, ma forse ho messo troppa acqua. Aspetta, eh. Allora, non ci scoraggiamo. Li avevo fatti col pennello o col dito? Col pennello. Ok. Beh, non è male. Non è male, secondo me. Con un pennellino di precisione ce la facciamo bene, secondo me. Sciacquiamo il pennello, come se stessimo disegnando un quadretto. Facciamo cadere l'acqua in eccesso e prendiamo il giallo. Che giallo ce n'è uno? Ed è nella palette di Fortnite. Invece il bianco che abbiamo swatchato è della palette di oggi, di... Ma la scorsa volta erano più... Ho messo meno acqua. Mi sa, aspetta, eh. Ne metto meno di acqua. Eh, perché ho messo troppa acqua, probabilmente. Oppure era un pennello che raccoglieva meno acqua? Cambio pennello. Perché sembrava, cioè, li fanno molto vuoti, ma non erano vuoti la scorsa volta. Cambio pennello, perché probabilmente questo pennello non è adatto. Prendiamo un pennello, lo asciughiamo. Così scarichiamo l'acqua e soprattutto ci assicuriamo che sia pulitissimo. Eh sì, così poi dopo non sporca tutti i colori. Vediamo. Eh sì, allora. Eh, va già meglio così, secondo me. Io li darei un'altra pulita, però, questo pennello. Opla! Perché si vede che era stato usato, pulito, ma magari lavato male. Non vorrei sporcare il colore. Perché a volte può succedere che anche se li laviamo, se è usato magari col nero, per esempio, nelle setoline dentro rimane qualche traccia. Quindi meglio far così. Asciughiamo un attimo. Scarichiamo l'acqua e vedrai che così sarà meglio. Forse. Niente? È uguale. Boh. No, ma forse sì. Si asciuga? Sì, dai. Cioè, nel senso, alla fine il bianco, prima quando era bagnato, era molto più, era meno vuoto, meno coprente, quindi... Sì, secondo me perché era bagnato. Allora, adesso per andare in scala, questo rosa... O l'arancione. Sì? Ok. No, non so. Vedi, trappacqua. Eh, bisogna capire la quantità giusta. Come i colori. Eh, sì. Vedi? Eh, sì. Perché è il pennello che va meglio, vedi? Sì, sì, adesso sì. Senza acqua il pennello va bene. È quello il problema. Ce l'abbiamo fatta, amiche, a capire. Quindi l'arancione. Ora il rosso. Rosa? Rosa, ok. No? Sì, no, non sapevo se volevi fare rosso e poi fucsia rosa. Va bene, ok. scarichiamo. Questo è della palette. Quella di Harley Quinn. Sì, vedi? Eh sì, adesso si scrive bene bene. Ma perché semplicemente perché ho scaricato l'acqua. Eh, esatto. Ecco. Quindi prendo poco poco... Adesso è il rosa? Sì, sì, o me. Metto lì, scarico l'acqua e adesso sì. Vediamo. Vedi? È quello il problema. Possiamo rifarlo il bianco se dici. Vabbè, magari lo rifacciamo alla fine. Sì. Allora, aspettate che scarico un attimo l'acqua. E diciamo che se uno deve usare tanti colori è un po'... Ebbè, meglio sempre comunque tenere pulito tutto. Sì, perché dopo se si macchiano lì i colori si è peggio. Quindi meglio far così. Come gli acquerelli. Eh sì, precisamente. Uguale. Quindi bisogna tenere sempre tutto molto pulito. Vado? L'altro rosa? Sì, sì. scaricare l'acqua e insistere un attimino. Vediamo. Quindi questo dovrebbe essere diverso. Sì, sì. È completamente un tono diverso. Perché questo è un rosa più pesca più caldo. Sì. Quindi direi abbiamo fatto bene dai a provarli tutti e due. Sì, così si vedono bene le differenze perché rende completamente diverso. Adesso cosa dobbiamo provare? Boh, l'azzurro o i verdi? Uno dei due. L'azzurro o i verdi. Vado? Quale? Questo? Sì, sì. A me. Questo è quello della palette quella di oggi. Ok. Quindi la palette di Harley Quinn e Ivy Poisson. Scarico un po' ancora. Bello. Secondo me sì, dai, sono carini. il rosa quello fluo si vede un po' più spento e l'azzurro invece si vede molto più acceso. E invece no, è il contrario. È il contrario, sì. Prendiamo qua. Scarizziamo un po' l'acqua. Prendiamo l'altro celeste, swatchiamo. Questo era bello. Bello, sì. Che bello! Questo sì mi piace. mi piace. Questo, no, forse oggi non ci stava bene perché il lillano è più viola. Ma sai che mi piace? Però è molto carino. Bello. Comunque sì, ecco, il segreto è dosare l'acqua del pennello. quindi adesso cosa ci mancano? I verdi e il nero e poi il bianco se lo vuoi rifare. Bisogna attivarlo con pazienza e poi non bisogna avere troppa acqua. Ecco. Prendiamo un po' col pennello mezzo asciutto poi lo riprendiamo. Beh, sicuramente bello, molto carino. Sono belli, eh. bisogna avere un po' di pazienza. Col dito allora da asciutti non si faceva nulla. E adesso l'altro verde si vede a sposto il tasto. No, no, si vede. Poi bisogna togliere l'acqua perché se no esce anacquato. Sì, esce troppo diluito praticamente. Sì, e viene leggero. Vedi? Se si azzecca la quantità giusta di acqua scrivono benissimo perché se no il problema non è la formulazione perché la formulazione dei colori è sempre la stessa. Il problema è, diciamo, chi lo sta facendo che sta sbagliando come me all'inizio con i primi due colori. Sì. Quindi adesso poi facciamo uno dei due neri. No, adesso è sporco però ancora. Prima voglio fare il bianco. Cambio l'acqua di nuovo. Eh, perché col bianco è un attimo. Eh sì, se no non capiamo. infatti per quello che l'avevamo fatto per primo. E qua è piccolo chimico eh oggi. Più o meno. Più o meno sì. Secondo me è super super carina l'idea però con l'acqua normale boh non lo so. Secondo me è meglio con l'acqua delle lenti a contatto perché comunque la mettiamo negli occhi. Vedi che scrive meglio? Sì, guarda. Aspetta. Sì, sì, molto meglio direi. È un po' così eh, il bianco comunque penso anche che sia in confronto agli altri. È più chiaro. No, però dai. Meglio, meglio. È perché c'era anche sotto abbiamo fatto una mezza schifezza. Il giallo lo lascio così o lo rifaccio? Boh, ma l'abbiamo fatto anche la scorsa volta. Bene, era venuto bene quindi perché è della palette vecchia, quella già fatta. Sì, quella di Fortnite. Meno male che l'hanno messo il giallo nella palette di Fortnite. E secondo me ci sta. Eh sì, perché avevamo anche tipo la beauty blender a forma di banana con tutti i gialli. vedi che scrive meglio? Sì, sì. No, belli. Adesso mancano i due neri. Sì. I due neri lo voglio fare qua all'inizio, qua così, perché non voglio sporcarmi. Allora, facciamo prima questo che è più chiaro. Dici che sono diversi? Secondo me sono diversi. Allora, questo è il nero della palette di Fortnite. guarda, sembra un eyeliner proprio per come scrive bene, guarda. infatti, col pennellino giusto. Con, sì, con anche la, come si dice, l'acqua della quantità giusta. Certo, poi voi la mattina non è che ne dovete fare 600, no? Di colori. Quindi fate meno fatica? Eh beh, sì. Non è che dovete fare 600 colori e lavare il pennello 200 volte. quando utilizzate due colori potete avere anche due pennelli, diciamo. Sì, esatto, ci fa meno fatica. Vedi che è diverso? Ah sì, è vero, sono un po' diversi. Ma molto? Sì, questo è un nero molto più lucido, non perché sia bagnato, ma proprio perché è diverso. Secondo me, cioè, quello è nero-nero, l'ultimo mio. L'altro è un nero grigio. Esatto. Nero più spento. Beh, direi che così è bello perché abbiamo un sacco di colori da provare. Bellissimi, comunque messi così tutti in scala belli. Eh sì, allora adesso voglio prendere questi e ponerli un attimo così per farli vedere. Bene. Secondo me sono belli. Aspetta che è storto. Oh no! Oh no! Oh no! Non so come hai fatto. E anche io. A tenerli in equilibrio sta cadendo. Eh sì, si spaccava. Comunque molto molto carini, devo dire. Mi piacciono. e ce ne sono tanti. 3, 6, 9, 12 colori come i colori, no? Negli astucci dei colori. 12. Sì. Esatto. Più o meno. Manca un marrone, ecco. Manca un marrone. E un viola, se proprio... Un viola. Ci starebbe stato anche bene. Un fucsia, un blu. Però magari ci sono altre palette grafiche che andremo ad accapparare. Sì, di altre linee magari. le faranno sempre diverse, penso, no? A seconda della linea. Non so se c'era di gris, guardo di qua perché ho messo le spugnette di gris. Io non ho capito tanto l'azzurro nella paletta di Pozo on Ivy e Harley Quinn. Non ho capito l'azzurro. In che senso? Cioè nel senso, il rosso, tutti gli altri colori secondo me sono abbinati. Gli occhi? Gli occhi di Harley Quinn. Perché li ha celesti celesti. Anche quali li hanno fatti. È tutto in bianco e nero tranne i suoi occhi che più o meno sembrano più di questo celeste. Ah, giusto che c'è una codina. Cosa è celeste? Che stupida. Bravo, bravissimo il nostro aiuto regista. È vero che ha una codina rosa e una celeste. È vero. Ivy Poison, il verde. Sì, esatto. L'arancione però è dell'altra palette. C'è il rosso poi per Harley Quinn diciamo che Ivy Poison gli avranno messo il bianco e il verde. No, perché il bianco è sempre di... Ma anche... Anche di Ivy. Eh, ha tanto bianco, tanto nero. Boh, diciamo che hanno provato a fare una combinazione di colori che ci spesse bene. Che avesse un po' di senso probabilmente tra di loro. E il rosa? I codini. Questi. Questa è di Harley Quinn. Hai i capelli. Uno rosa, una coda rosa e una coda celeste. L'hai detto tu. Celeste. C'è la rossa. C'è la rossa o c'è la rosa? Non ho idea. C'è il disegnato. Mm. Mm. Boh, mi sembrava fosse rosa. Anche a me per un attimo. Boh, mi è venuto il dubbio. Vi consiglio di... Sì, boh, non lo so amiche. Di lasciarla aperta la palette per farla asciugare per quando la utilizzate con l'acqua. Così si può asciugare. Beh, io direi che è molto, molto, molto carina. Per 3,50 euro a due palette, 7 euro con i saldi. sennò costavano mi pare 8,90 euro a prezzo pieno. Quindi se uno non ha paura di non trovarla a prezzo... Sì, con i saldi. Se, diciamo, non è la fine del mondo, se poi non riesce ad accaparrarsela con i saldi perché magari è sold out prima, ha senso aspettare i saldi e poi comprare alcuni articoli make-up con i saldi, no? Perché sono convenienti i prezzi. Diciamo che 8,9 euro non è molto neanche a prezzo pieno. Se vi piace tantissimo vi consiglio di prenderle quando verranno fuori magari nelle prossime collezioni le palette graphic artist perché scrivono molto bene. Unica cosa, cortezza, bisogna avere un pennellino giusto per eyeliner o per, insomma, make-up pochi piccolo come questo. Sennò, molto adatti anche quelli mini come possono essere questi, ma vi va male a miscelare il colore con questi perché dovete averlo già bagnato e pronto sennò questo lo rovinate, no? Però dopo potete andare a prendere il colore che avete un po' miscelato col pennello più grande potete prenderlo con questo per andare a disegnare e delineare la punta fine fine quindi noi sicuramente la utilizzeremo. Questi sono molto comodi di pennelli li ho comprati a pacco da 24 mi pare li ho pagati anche pochissimo perché sono anche storti non è che io l'ho schiacciato con la sedia però vedete che è storto si vede? Sì sì è storto è fatto proprio apposta è fatto sì così per essere comodo per andare meglio a utilizzarlo non so se effettivamente è comodo lo proveremo assieme secondo me il primo gli è uscito male che gli è caduto e poi hanno detto oh dai bella idea e li hanno stortati tutti ha senso ha senso sicuramente a volte da qualche piccolo incidente nascono grandi idee quello sì eh sì voi volete aggiungere qualcosa che tasto scegliete io ho quello rosa perché mi piacciono sì dai tu? anch'io anch'io ah bene tutti d'accordo stavolta tutti d'accordo questa volta all'unanimità la palette questa è di fortnite la poso la palette di oggi quindi è questa per 3,50 euro quindi i colori li vedete qua in mezzo sono il il bianco il bianco il primo verde il rosso il primo rosa e il blu il primo blu qua quindi molto il nero e il nero e il secondo nero quindi molto carina molto economica molto conveniente e anche carina nel pack come ha detto la regista prima che ho sentito che lo diceva l'aiuto regista c'è una figurina letteralmente spiaccicata sopra eh sì è una figurina però è bellina mi piace mi piace sono curiosa siamo curiosi curiosissimi di sapere cosa voi ne pensate di questa palette è conveniente per 3 euro e 50 voi l'avete già comprata magari proverete a cercare se ce n'è ancora qualcuna disponibile con i saldi a 3 euro e 50 se vi va fatecelo sapere nei commenti e se avete voglia come sempre di lamentarvi di qualcosa lamentatevi nei commenti perché questo è il canale giusto dove vi potete anche lamentare e io sarò molto felice di rispondervi come sempre no? quindi abbiamo detto tutto voi volete aggiungere? no? per me secondo me abbiamo detto tutto ti è piaciuta questa palette? piccolina piccolina essenziale utile secondo me la parola d'ordine per queste palette graphic liner è utile ma effettivamente secondo te conviene comprare questa invece magari degli eyeliner colorati costa meno è più economica? costa meno è più economica i più colori e sicuramente si scaricano meno cioè più difficilmente che si scarichino perché hai più eyeliner più prodotto e poi magari essendo anche compatti cioè quell'altro penso sia liquido dentro ovviamente quindi si può seccare e un piccolo suggerimento quando finiscono i pennarelli non li buttate non li buttate perché io li conservo e a volte lo uso con i decacolor per disegnare sulle magliette ma quando saranno scarichi li potrete utilizzare anche potete bagnare con un pennellino un po' più grande lì e poi prendete con questo perché sono molto comodi e potete tenere tutti i pennarelli eyeliner finiti e tenerli per il colore che dovete utilizzare se ne avete sei scarichi poi li potete utilizzare bagnando nelle palette eyeliner esatto ed è pazzesca l'idea questa sì che è un'idea pazzesca me lo dico da sola sì questa sì è molto utile e questi vi durano amiche non dico in eterno ma veramente ce n'è voglia fare eyeliner anche perché fine ne serve molto molto poco però come ci sono adesso i doppi eyeliner grafici disegni sono molto carini dall'uso quanto ne mette però durano tanto si ce n'è prodotto è bello avere anche tanti colori per poter scegliere mi raccomando lasciatele aperte quando si devono asciugare perché ho paura facciano possano fare delle muffe dei batteri quindi sicuramente i pennelli che utilizzate devono essere molto puliti l'acqua che utilizzate meglio se sicura come quella delle lenti a contatto mi raccomando anche quella controllate che sempre che non sia scaduta nel senso di non averla aperta da tanto tempo perché nella confezione c'è proprio scritto dell'acqua delle lenti a contatto il liquido che si può tenere aperto fino a un certo tot quando da buttare come anche il make-up va buttato perché se no rischia di farci male no? eh sì specialmente per gli occhi che sono delicati infatti particolare attenzione sempre a tutto il nostro corpo ma anche agli occhi perché sono una delle parti più delicate due delle parti più delicate del nostro corpo e quindi sì io non sono ecco molto diciamo se si può dire così in accordo quando vedo girare degli short particolari dove introducono cose che non si può make-up che non si può dentro agli occhi si irritano no lo trovo poco utile un brutto esempio challenge challenge non utili quindi io semplicemente non le faccio perché ho molta cura rispetto del mio corpo e voglio anche trasmettere un esempio secondo me cioè darei un brutto esempio se mi mettessi qualcosa che non si può dentro agli occhi e lo facessi anche vedere perché potrei con questo gesto far venire voglia a qualcuno a sua volta di provare e non lo trovo carino no? non è carino secondo me bene quindi secondo me abbiamo detto tutto io direi che possiamo salutare come sempre vi ringraziamo per aver aperto questo video speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia con questo video vi ringraziamo tantissimo ma mi stavo quasi no dimenticando dobbiamo salutare chi BMC perdonami che mi stavo ero tutta presa da questa palette eyeliner questo bacio grandissimo è tutto per te ti mandiamo un saluto grande 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 ce l'ha chiesto più e più volte sempre nello stesso giorno di essere salutato io ho visto il nickname si chiama Kibi MC ma certo ma con grande piacere ti salutiamo non vorrei dire una cosa non so come dirla sì non c'è bisogno diciamo di preoccuparvi di chiedermelo un po' dispiaciuti di essere salutati perché io vi saluto molto volentieri ma ci mancherebbe per me è un onore grandissimo la vostra richiesta di essere salutati da me da noi nei video lo facciamo super volentieri anche l'aiuto regista sta facendo così voi non lo vedete ma lui è come il signor no il signor sì nei giudici che ci sono i registi nei grandi programmi questo non è un grande programma è un piccolo canale ma abbiamo la regista e l'aiuto regista che comunque coordinano interagiscono e si occupano della regia del nostro canale quindi lui era d'accordo no per noi è un onore grandissimo quindi kibmc questo bacione è tutto per te e avevamo solo una persona che ce l'ha chiesto oggi quindi non è che dobbiamo fare diciamo una lista lunghissima noi super onorati comunque molto felici mi pare che mi abbiano anche chiesto di raccontare delle cose che ovviamente mi sono segnata e andremo a parlarne e a raccontare queste cose in un video dedicato perché questo diciamo è un video make up io di solito mi dilungo tantissimo raccontando e chiacchierando ma oggi abbiamo poco poco tempo a disposizione perché abbiamo anche diciamo intenzione di registrare un'altra rubrica non so se riusciremo a pubblicarla in tempo mi sa di no perché stiamo già scorando alla grande con i tempi però ci stiamo organizzando cercando di capire come è meglio fare per magari registrare la rubrica alcuni pezzi durante la settimana perché diciamo che ci occupa comunque del tempo e per fare le cose fatte bene bisogna almeno prima pensare bene al tipo di format che si vuole cercare di seguire per non fare una roba troppo disordinata ma con un po' di senso prima di iniziarla devo averla chiara in testa diciamo che ci siamo quasi avere una bozza io non faccio mai scalette non mi scrivo assolutamente a quello che devo dire ma devi saperlo tu nella tua testa però devo essere pronta con l'idea di com'è il format per avere anche in mente i tempi da seguire ma mentalmente poi ovvio che assolutamente si va a braccio nel senso che non si può sapere cosa si dirà della palette se quella palette quel giorno lì mi darà un'emozione particolare e mi farà magari venire in mente qualcosa del mio passato o che voglio realizzare nel mio futuro è tutto legato alle emozioni del momento per questo non mi scrivo nulla no? perché è legato all'emozione però so che parleremo di una palette quello sì e quindi prima di realizzare questa tipologia di video anche perché deve essere una cosa spontanea sì assolutamente io non sono in grado di fare una cosa che non è spontanea perché probabilmente sono limitata non ho delle doti da poter utilizzare in cui mi organizzo prima quello che devo dire perché non me lo ricorderei poi secondo me anche per come sei fatto tu non ce la fai a dire qualcosa che ti imposta cioè sembra un po' cioè non so come si dice no fake un po' forzato sì non esce neanche cioè che sembra spontaneo può essere che se devo piangere piangerò se devo ridere riderò e se devo annoiare annoierò così stanno le cose così stanno i fatti e quindi noi vi ringraziamo per aver aperto questo video vi mandiamo un bacio grandissimo vi ricordiamo di schiacciare un pollicino se questo video vi è piaciuto così capiremo che vi è piaciuto di condividere esternamente questo video a tutte le amiche e gli amici amanti del make up amanti di Harley Quinn e Ivy Poisson quindi di tutta la combriccola come si dice l'allegro team di DC Comics Batman Joker eccetera eccetera e se non siete iscritti al canale amiche e amici questo è il momento giusto per farlo perché l'iscrizione è gratuita e come dico sempre io ci era mancai Atra Goza Vuru come sempre vi ricordiamo di commentare con la pozione la foglietta d'edera velenosa per Ivy Poisson con il rombo a questo punto il rombo rosso sì perché rosso o nero per Harley Quinn col cuoricino celeste col cuoricino rosa rosso un po' con l'imoji che vi pare che vi sembra bella abbinabile e carina e dicendoci tutto quello che abbiamo detto durante il video che vi è piaciuto parlandoci di voi di come state se vi volete lamentare chi vi piace di più tra Harley Quinn e Ivy Poisson e come sempre vi auguriamo una bellissima serata e vi mandiamo un bacio grande 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 ciao amiche al prossimo video buona serata pazzesco che si asciuga subito infatti facendo così vedete sto proprio sfregando la mano ma non si toglie e non si sparge quindi anche fare un piccolo disegno sul viso e lasciarlo asciugare bene poi se anche ci tocchiamo non si toglierà guarda si vede si sente il rumore ci sto proprio sfregando e non succede nulla nulla zero meno male zero quindi non va nemmeno a macchiare i vestiti quando è asciutto eh già infatti bello si può fare non so un fiorellino anche dei disegni un po' fantasiosi nel viso perché poi si va proprio a fissare bello devo dire che mi piace certo che se vi scende una lacrima si toglie sicuramente con l'acqua eh vabbè con la lacrima però se non vi bagnate ma se noi facciamo così cosa succede vediamo gli esperimenti vediamo vado così e lo facciamo anche dall'altra parte aspetta ah così è già bagnato così prendo e faccio così eh sì eh vabbè volevo fare l'arcobaleno no farlo tipo no così ad arcobaleno vedi col dito pulito però non esce niente niente è un disastro ok